Lei ha solo sei anni e ci reciterà, lei un monologo, Schiavello Sofia! Oggi reciterò la filastrocca della primavera. Accipicchia come ronfate, marmottine addormentate, ma fuori dalla tana l'inverno si allontana. Le gemme hanno mostrato le punte, ma voi siete al caldo tra le trapunte. Le finestre verrò ad aprire per costringervi a uscire. Grazie mille! Brava, bravissima! Non voglio neanche chiedere da quanto tempo la studia perché ha sei anni. Da dove vieni amore? Da Roma. Ma anche tu hai una squadra del cuore? Ti piace il calcio? Sì. Che squadra? La Lazio. Bene, 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 bene. Un applauso, puoi accomodarti, grazie mille.